Nella filiera ci sono anche i manager, ci sono anche tutti coloro i quali vengono rappresentati da confassociazioni, il mondo immobiliare e le varie realtà, perché noi peraltro facciamo parte del popolo delle partite IVA, quelli che hanno il 64.8% di pressione fiscale complessiva sui loro bilanci, non ce lo scordiamo mai, e quindi abbiamo bisogno anche di avere una rappresentazione da questo punto di vista, cioè lavorare, cercare di far capire alle istituzioni, al governo, appunto a chi ci governa, che una pressione fiscale troppo opprimente distrugge il tessuto sociale e l'economia, e quelli che possono scappano e alla fine, come dico sempre, rimarremo in pochi se continua così a pagare le tasse in questo Paese. Per questo motivo, FIAIP ha lavorato negli anni anche con Conf Associazioni e con il Presidente Angelo Deiana, che invito a portarci un saluto. Io sono onorato di essere qui con voi, in primis per la stima, l'amicizia e anche il coinvolgimento emotivo che mi lega alla FIAIP e in particolare a Paolo Righi. Io sono convinto, ve lo dico, anche qui il notario Rubertelli parlava di captazio benevolenze, che delle 335 associazioni, più di 570.000 professionisti iscritti, che fanno parte adesso di Conf Associazioni, la FIAIP sia una delle più importanti e lo dico anche in considerazione dell'importanza di tutte le altre. vedete, basta guardare la parte sinistra per me e destra per voi dello schermo, quella è come se fosse una piccola rete, c'è il sistema immobiliare rappresentato dagli agenti, ci sono le banche, ci sono una serie di società a rete. Perché vi dico questo? Perché voi siete dei professionisti così importanti perché gestite da una parte uno dei lati più importanti ed emotivi della nostra vita, la casa. La casa è un bene in cui tutti noi mettiamo coinvolgimento emotivo, per questo vi parlavo di coinvolgimento emotivo, mettiamo passione. Dall'altra, e qui la parte emotiva scende e sale invece la parte razionale ed economica, voi gestite i flussi di un pezzo importantissimo del patrimonio di questo Paese. Dice Banca Italia, ma tanti dati sono ballerini perché è chiaro che derivano anche dai corsi azionari piuttosto che immobiliari, 10.000 miliardi di euro, di cui 3.200 investiti sui mercati finanziari, io faccio un amministratore delegato di un SGR internazionale che fa anche investimenti immobiliari, 6.800 formati dal patrimonio immobiliare dei 60 milioni di italiani. Voi vi rendete conto che è una ricchezza immensa? Fate una proporzione, la grande Germania ha complessivamente 4.500 miliardi di euro, meno della metà. E il problema è chi gestisce questi flussi? Questi flussi come possono essere facilitati? Il Presidente Righi ricordava il tema della pressione fiscale, il tema della pressione fiscale è un tema importantissimo per liberare risorse e farle girare, c'è bisogno che, per cui, di una misura per cui lo Stato si renda conto che, fra virgolette, abbassando la pressione fiscale, alla fine guadagna di più, perché il flusso complessivo di transazioni diventa più alto e invece noi siamo ancora legati fortemente a una logica di pressione, diciamo così, burocratica che tende a stratificare gli adempimenti per due motivi. Primo per giustificare chiaramente la spesa relativa a quegli adempimenti, secondo per giustificare una burocrazia che altrimenti non avrebbe ragione di essere. Ed è per questo che concludo, sarò rapidissimo, che io vorrei invitarvi a fare rete. Confassociazione è una grande rete, è fatta da tante professioni, di cui naturalmente il settore immobiliare è uno dei più importanti, ci sono i manager, c'è il sistema bancario e finanziario, ci sono gli altri servizi all'impresa. Perché esiste Confassociazioni? Perché noi abbiamo capito che l'unico modo per influenzare i processi strategici, la pressione fiscale, non tocco il tema dell'Ena Sarco, tanti altri temi, dove le singole associazioni pur importanti, pur di grande standing come la vostra, esistono, ma non riescono a governare i processi. Perché? Perché la massa critica è comunque un valore. Noi siamo, voi siete, un pezzo significativo del sistema nervoso di questo Paese. Se le piccole e medie imprese sono il sistema cardiocircolatorio, noi siamo il sistema nervoso e senza sistema nervoso e senza cervello, non si va da nessuna parte. Per cui facciamo rete tutti insieme, influenziamo i processi strategici e li influenziamo non perché facciamo lobby, ma perché siamo azionisti del Paese stesso. Grazie.